Greta Thunberg è stata nominata personaggio dell'anno dalla rivista Time. Il corrispondente Dario Laruffa. In piedi su uno scoglio fra le onde, Greta Thunberg sulla copertina che il prestigioso settimanale Time dedica da 92 anni alla personalità dell'anno. Nel 2018 il riconoscimento andò ai giornalisti in pericolo nel mondo. La sedicenne ambientalista svedese ha battuto fra gli altri Donald Trump e i manifestanti di Hong Kong riconoscimento conferito nel segno del potere della gioventù. Scalata fulminea di una giornalissima diventata icona che ha saputo toccare i cuori con attorno una rete di sostegno anche familiare. A metà 2018 il sciopero del venerdì davanti a scuola per salvare il pianeta. A gennaio al summit di Davos chiede ai leader del mondo abbiate paura come ne ho io. Agite. A settembre arriva a New York, imbarca e scandisce in assemblea alle Nazioni Unite. Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote. Il presidente del Brasile, Bolsonaro, la definisce una mocciosa. A Madrid alla conferenza sul clima, Greta ha detto i politici si comportano come non ci fosse un domani, ma c'è un domani. Vista la copertina di Time ha postato su Twitter. Wow, incredibile. E poi adesso mi prendo una pausa. Miró, Chagall, Matisse e tanti altri nomi dell'arte del Novecento si confrontano col tema del Sacro in una mostra ricca di opere mai viste prima. Tommaso Ricci. Sì, va bene Michelangelo e Raffaello, ma ci sono anche Van Gogh, Matisse e la videoarte nei musei vaticani, solo che stanno nell'ala meno nota, quella moderna e contemporanea. Che stavolta ha deciso però di giocare i propri assi pigliatutto nella mostra gratuita aperta al braccio di Carlo Magno in San Piero. Non tutti sanno che i musei vaticani conservano anche un'importante collezione dal punto di vista qualitativo e dal punto di vista numerico. Parliamo di circa 8.600 opere.